Domenica 22 ottobre si vota in Trentino per scegliere il Presidente della Provincia e il Consiglio Provinciale. E io sono qui a chiedervi chiaramente di andare a votare e di votare Fratelli d'Italia. Bastano 5 minuti ed è semplicissimo, basta fare una croce sul nostro simbolo per confermare il buon governo del centro-destra, dare più forza a Fratelli d'Italia anche in Trentino. Ogni voto a Fratelli d'Italia è un voto per un Trentino più sicuro, più attento ai bisogni delle famiglie e delle imprese, più vicino alle istanze di chi produce e che si rimbocca le maniche ogni giorno. Ogni voto a Fratelli d'Italia è un voto per rafforzare l'autonomia del Trentino, per renderla sempre più un'opportunità. Aspetta a voi e a nessun altro. Il 22 ottobre di un anno fa è stato un giorno particolare, alcuni dicono storico per l'Italia. Dopo anni di governi scelti dal Palazzo, il popolo italiano è tornato padrone del proprio destino. Ha scelto il centro-destra, ha scelto Fratelli d'Italia, è nato un governo sostenuto da una maggioranza solida che porta avanti un programma chiaro. In questi mesi abbiamo lavorato senza sosta per ripagare quella fiducia per dimostrare con i fatti che era possibile costruire un'Italia diversa. L'Italia del merito, del lavoro, della crescita, della famiglia, della legalità. L'Italia vincente. Domenica 22 vi chiediamo di farlo anche a Trento. Votate Fratelli d'Italia per un Trentino forte e sicuro, perché ora sapete che di noi potete fidarvi.